Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del BNRD. Come avete visto sono iniziati i controlli sulla strada da parte della Polizia locale, controllo della velocità, controllo dei dischi orari. Era una delle richieste che c'era stata fatta, quella di una maggior presenza della forza pubblica sulle strade. Molto spesso mi capita di vedere che molti non sono contenti perché vengono colpiti da molte. Questi controlli continueranno perché bisogna garantire il rispetto delle regole da parte. Come avete visto sono in esecuzione i lavori degli attraversamenti perdonali rialzati che fanno anche da rallentamento sulla strada per la velocità. In queste ore e in questi giorni si sta proseguendo anche con la segnaletica orizzontale su questi nuovi manufatti. Si spera e si pensa che tutto questo possa servire davvero a migliorare la vita del pedone e a moderare un po' la velocità degli automobilisti. Gli eventi della settimana, domani 2 luglio presso Calipolis, il CRT propone uno spettacolo teatrale alle ore 17.30 dal titolo Democrazia. Domenica 3 luglio in Piazza della Repubblica la Piazza Mercato torna la rassegna del mercatino degli hobbisti organizzata dalla Proloco, mentre il 6 luglio alle ore 21 all'interno della cortile del Castello Visconteo organizzato da ACLI, una serata dedicata alla riforma sanitaria della Regione Lombardia. Non abbiamo null'altro da dire, non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana prossima e al prossimo video. Buona giornata a tutti!